Applausi al nostro Andrea Gioa, voglio l'applauso per i miei ragazzi. Gabriele Cambrini, Fisarmonica e Tastiere, Programmazione, Giuseppe Vissoni. Ecco, io non ho mai capito perché quando presento Giuseppe Vissoni c'è sempre quello bravo, ma ha del fascino particolare che io non ho ancora capito oppure... Aspetta, riprovo. Giuseppe Vissoni! Mi dispiace per te Stefano, Stefano Zizza! E poi guardate che bel ragazzo, grande musicista, grande persona, gli vogliamo un bene della Madonna, si può dire no? Andrea Piva, la batteria! Con il codino, che prima o poi glielo taglieremo, di sorpresa, di sorpresa. E poi un altro pilastro dell'orchestra Pergamini, Paolo Nialdini al basso! Grande Polo! Però ragazzi, il vecchio ti ne botta là, eh! Allora, aspetta, 21... Diciamo, 2021, no? Sì! No, no, non si può! A luglio, 34 anni di permanenza con l'orchestra Pergamini! Dio, no, è Custenza! Chi è che cos'è? Tieni duro! Tieni duro! Ma quello mi sa che non è più così, eh! Non vorrei dire... Non lo so, ma la sua moglie incomincia a lamentarsi un pochettino. Quando viene a trovarsi, dice, eh Luca, non è più come una volta. E poi ha perso anche i capelli adesso, proprio zero capelli. E poi è due anni che non fa più niente. È vero, due anni che... Due anni che non ti ne vuole. Ah, io due anni... Ah, no, ma mi telefono, eh! Mi telefono, no, 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 mi telefono, no, perché... Perché lei mi tiene informato, mi tiene informato. Ah, se no sarebbe peggio. Ah, ha detto... Si è peggiorato ancora! Soccio Gabriele! Avete un po' di Viagra, ragazzi, qui alla Paniglina, no? Niente? Allora dai, torniamo seri. Allora, stavo dicendo che il nostro Andrea Giova... Facciamo l'applauso anche a Andrea Giova! È un grande rocchettaro. E allora, per farlo sfogare proprio per bene, abbiamo scelto di fare questa canzone. Però dove andate voi? Andate via, signori. Andate via. No, perché io ci contavo su di voi. Allora, la canzone è questa qui, eh! Famiglia Pinto, mi raccomando, aiutateci! Anche qua di dietro potete cantare, eh! Aspiri piano! Si è fresca ancora! È più dura, ragazzi! Ti metti rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assolta. Nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, ti vesti sbogliatamente, non metti mai niente che possa tirare attenzione. In particolare, in particolare, solo per farti guardare, con la faccia pulita cammini per slanzare e cammini. Bravi! Mi piace studiare, non te ne devi regolare, e quando guardi con quegli occhi strani, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Giovan, siamo nelle tue mani. Giovan, siamo nelle tue mani. Giovan, siamo nelle tue mani. Andrea Giovan, siamo nelle tue mani. Che cosa? Proprio... No, va bene, va benissimo, vieni più qua, sai fare di meglio? Qual è il pulsante questo? No, è quello lì. È già acceso. È già acceso? Trifor! No, va bene, va bene. No, va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.